...d'attacco del Napoli, 21 minuti di gioco rimessa con le mani da parte del Cagliari, siamo nella metà campo del Rosso Blu, pazienza recupera palla, la cede a Grava, il tentativo di Grava viene fermato, attenzione però che il Cagliari ne approfitta per ripartire subito, bravissimo però Gianluca Grava a recuperare palla, a darla a Mare Kamsik, subisce pallo, norma del vantaggio, Lavezzi, Lavezzi, un dribbling riuscito, va al limite, Lavezzi, tiro! Gol, 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 Lavezzi, 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 Poccio gol, Poccio gol, Poccio gol, e che 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 gol, 1 a 0 per il Napoli, Poccio Lavezzi, e che goduri amici qui a Cagliari, 22 minuti di gioco, 1 a 0 per il Napoli, palla a centro. si riprende